Parliamo del nuovo trailer di Mufasa, il prequel del Re Leone, versione ormai per consuetudine la si definisce live action, ma in realtà di live action non c'era un fico secco, è la versione in CGI. Ricordiamoci che quel Re Leone, targato 2017 se non sbaglio, diretto da John Favreau, è ancora adesso il film d'animazione con il maggiore incasso nella storia del cinema. Intanto era del 2019, quindi l'ho anticipato di due anni, sembra passato più tempo, 2019. C'è Inside Out 2 che è lì, che gli sta un po' mordendo le caviglie, vedremo se ce la farà, gli mancano 60 milioni, una roba simile, quindi è un traguardo alla portata, ma attualmente detiene il record. Quindi, siccome quelli della Disney non sono particolarmente scemi, hanno deciso di provare a ricavare altro denaro dal brand e arriva appunto questo prequel che ci racconterà le avventure del giovane Mufasa. Secondo trailer. Come mi rapporto io con questa rivisitazione del grande classico Disney, che oltretutto è forse il mio classico preferito, sono indeciso tra tre, che sono veramente i film Disney che hanno contraddistinto la mia infanzia. La Bella e la Bestia, Aladdin e Re Leone. Devo dire che tutte le versioni con attori in carne ed ossa o rivisitate di questi classici del mio cuore, bene o male, mi sono piaciute. La Bella e la Bestia, io l'ho trovato molto carino, lo riguardo volentieri. Aladdin, forse leggermente meno, ma comunque simpatico, con un Will Smith sugli scudi. E a me anche il Re Leone in CGI è piaciuto. Non ho condiviso tante critiche, sì, ok, l'espressività degli animali non è all'altezza di quella del cartone animato, ma sarebbe stato controproducente. La filosofia da cui quel film si è formato si basava sulla finzione, sul facciamo finta che quella storia, ovviamente molto romanzata e shakespeariana, sia accaduta davvero con animali veri e gli animali in natura non hanno gli occhioni, il faccione, i sorrisoni. Era un'operazione particolare, non apprezzata da tutti, però il grande pubblico ha risposto questo non vuol dire allora che il film fosse di qualità indicibile, ci mancherebbe altro, ma c'è stata una certa ricezione. Vedremo poi se con il passare del tempo il passaparola è rimasto positivo oppure se il fenomeno si è ridimensionato, ma il nuovo trailer a me è piaciuto molto, decisamente più del primo, che comunque già era un teaser, lasciava presagire che ci potesse essere qualcosa di interessante sul piatto. Inizio dal lato negativo. Gli effetti visivi devono ancora convincermi. Mettiamo il negativo tra virgolette. Devono ancora convincermi perché magari necessitano ancora di qualche ritocco. Sappiamo che ormai questi film ricchi di effetti vengono modificati davvero fino all'ultimo secondo. Quindi il film arriva a dicembre, a Natale, magari c'è ancora modo di sistemare qualcosa, ma poi sono anche difficilmente valutabili perché, e questo l'abbiamo imparato a furia di visioni, di trailer, discussi, talvolta il medium su cui esperiamo il trailer in questione può cambiare la nostra percezione. Quindi lo stesso filmato di presentazione visto sul computer può dare un'impressione diversa rispetto alla proiezione sullo schermo televisivo di casa o su quello dello smartphone oppure sul grande schermo. Ecco, io il trailer di Mufasa l'ho visto sul portatile e... Non è che mi abbiano colpito molto. Il livello della CGI non mi sembra impeccabile. Non mi sembra all'altezza del predecessore. È un giudizio provvisorio. Aggiungo un'altra cosa. All'inizio ho fatto un po' fatica di inquadrare questi animali in una cornice visiva. Comunque anche quell'artefatta, le ambientazioni mi piacciono molto, ma poi più andava avanti il trailer e più mi ci sono anche abituato. Questo aspetto un po' grossolano delle creature non mi ha più dato fastidio. Perché il contenuto mi sembra molto interessante. È una cosa molto semplice. È una storia abbastanza basilare. Scopriamo che i due fratelli che si detestavano nel Re Leone da ragazzi invece erano amici, avevano un rapporto molto stretto. Addirittura è stato il futuro Scar ad accettare l'orfano Mufasa nel branco. Quindi potremmo dire che la sua bontà a lungo andare gli si è ritorta contro. Quindi può essere davvero intrigante vedere il disfacimento di questo rapporto. Stavo per dire umano, ma in realtà animale con le inevitabili conseguenze. Può essere un film che ci lascerà con l'amaro in bocca, con dei toni magari inaspettatamente drammatici. Come anche il Re Leone non aveva paura nell'assestare qualche colpo apoplettico ai bambini dell'epoca con il decesso dello stesso Mufasa. La regia, le musiche, intendo la colonna sonora non cantata, perché poi sappiamo che sarà di nuovo un musical con le canzoni di Lin-Manuel Miranda. Tutto è riuscito ad emozionarmi e coinvolgermi. Quindi è un film che aspetto con sempre maggiore interesse. Io lo aspettavo a prescindere perché mi piace questo brand. Come vi ho detto, mi ha convinto anche il remake del 2019. Ma adesso a maggior ragione noto che ci sono degli elementi che mi incuriosiscono, che mi piacciono, persino che hanno potenzialità per farmi emozionare e per raccontare una bella storia. Mi piace anche il cattivo di turno, questo leone bianco con la sua peculiare tribù. Non è che mi aspetti particolari colpi di scena. L'importante è che raccontino in modo ben fatto questa caduta al lato oscuro di Taka che poi diventerà Darth Vader alias Scar. Quello è veramente il focus, quello è il centro. Ha, tra l'altro, confermata la cornice, quindi sarà una storia raccontata da Rafiki. E anche questo pretesto è abbastanza simpatico. Quindi io promuovo il trailer, mi ha convinto, mi è piaciuto. Ovviamente fatemi sapere la vostra nei commenti, anche indifferita. Grazie.